Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte, dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le isole remote, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che sarà molto apprezzato da chi ha spiegato le vele verso la ruta maggiore. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia lo One Piece Car Game Premium Car Collection Best Selection Vol. 1. Il prodotto si presenterà all'interno di una pellicola di Cellophane e riporterà le versioni alternative di Buena Festa, Tsuru, Nami, Pacifista, Amanda e Kurli Dadan assieme al titolo dell'articolo e i vari marchi della casa produttrice sulla parte frontale, e la lista completa delle 12 carte presenti nel fascicolo con tutte le informazioni legali del caso riportate sulla parte dorsale, tutto su sfondo nero a trama mappata. Sarà da notare che il volume è stato ideato a livello di apertura come un classico manga, perciò la facciata sarà in realtà la quarta di copertina occidentale e quindi andrà sfogliato da sinistra verso destra. Le carte incluse nella confezione inoltre possiederanno un'ulteriore bustina singola direttamente incollata alle facciate interne, che riporteranno, come per l'esterno, uno sfondo nero a trama mappata, fornendo protezione aggiuntiva ad ogni elemento mostrato nell'articolo. Se preso singolarmente, ciascun elemento presenterà una foilatura dedicata, che andrà ad esaltare ogni aspetto dell'artwork alternativa che diversi artisti hanno realizzato per l'occasione, dando quel tocco di prestigio in più ad ogni character o event preso in considerazione per rientrare all'interno di questa elite, che i diversi aspiranti re dei pirati potranno utilizzare a proprio favore per dare vita a battaglie marittime piene di colpi di scena. Per le controparti già esistenti, di certo queste ultime non renderanno giustizia alla potenza e alla bellezza dei personaggi iconici della saga. Infatti le alt cattureranno quell'essenza che andrà ad esprimere il pieno potenziale di ogni elemento presente nella Best Selection. Che meraviglia di prodotto, soprattutto per il contenuto, dove saranno presenti carte attualmente giocate come Ice Age e Tsuru, presenti in Moria ed alcune versioni di Sagazuki per il primo, ed in tutte le versioni dove c'è il nero per la seconda, Love Love Mellow, se impiegherete Nami, Amand per Ikata, Ibin con le Dadan, sempre buoni per il rosso o un mix, e Nami con Buena Festa per Doflamingo. Per i Thunder o il Pacifista, invece, non li ho più visti giocare tanto, ma con i supporti che arriveranno in futuro, magari una versione rivisitata di un giallo o un blu che li utilizzerà, o perché no, un leader che ne condividerà le tonalità, potrà sempre adoperarli a proprio favore. Ora, parlando di prezzi, sul sito ufficiale è riportato un valore indicativo di 25 euro, ma come sempre chiedete al vostro fornitore di fiducia per l'adeguamento di prezzo che verrà scelto infine dal commerciante di riferimento. Quindi, 25 euro è un valore indicativo, prendetelo in considerazione come tale. Cosa dire quindi per quanto riguarda questo incredibile prodotto? Per tutti gli appassionati, giocatori o collezionisti che sia, almeno una copia andrà acquistata per mostrare in tutta la loro bellezza, magari in un deck o perché no, attraverso un quadro dove le andrete ad incorniciare, la maestosità delle carte presenti nella Premium Car Collection. Prima di concludere, volevo ringraziare Luis della fumetteria Loop Games per aver fornito il materiale mostrato in questo contenuto. Come sempre, vi lascerò ogni riferimento in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio, verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!